Dalle luci del Teatro Aristone di Sanremo all'ombra della Torre Civica della sua città di Castello. Riconoscimento delle comune tifernate a Leonardo Fresco Becca Fichi, 45 anni DJ, producer, ingegnere del suono, collaboratore dei big della canzone da Giovanotti a Gianni Morandi e tanti altri. Di ritorno dalla città di Fiori, dove ha lavorato nelle team di produzione della canzone Apri tutte le porte, delle Gianni nazionale terza in classifica finale, Questa mattina è stato ricevuto in comune nella sala consigliare dalla sindaco Luca Seconde e dall'assessore alla cultura Michela Botteghi, in segno di gratitudine e congratulazioni per aver raggiunto un altro prestigioso obiettivo della sua brillante carriera di artista ed ingegnere del suono. È stata un'esperienza incredibile perché la Kermesse è veramente pazzesca. Poi ci sono stato con Gianni, con Lorenzo, che sono due artisti incredibili, patrimonio non nazionale, di più. E quindi è stato bellissimo, una grande esperienza, anche terrore a un certo punto perché comunque per quei tre minuti la gara la senti, ma non terrore, diciamo, la tensione giusta, insomma. Quindi è stato bello, una grandissima esperienza e siamo tornati vincitori, ecco. Il castello per me è importante, è il mio rifugio, sono il mio studio, i miei amici, la mia famiglia, ci sto bene, riesco a concentrarmi. Stiamo lavorando all'avvicinamento al Jova Beach, quindi c'è un sacco di lavoro e ecco, con lui ho fatto veramente cose che non sarei mai aspettato. Perché è un grandissimo lavoratore, un grande artista, perché è un visionario, progetta il futuro e per la sua carriera ed è un vulcano. E l'ho saputo che stasera riaprono il club, infatti mando un saluto ai miei amici, ai DJ, a Ralph, soprattutto che so che non vede l'ora di ripartire, ai miei amici dei club, a chi lavora, che è stata dura, è stata dura e ecco. Però dai, si riparte, quindi bene, bene, sono veramente contento che si ritorna a far ballare la gente. Niente, alla fine quello è il nostro primo pensiero da DJ, insomma, lo dico anche perché è la mia grande passione.